Il governo regionale è battuto ancora, è stata pubblicata su internet Panormus, l'annuario di Statistica del Comune di Palermo. La Guardia di Finanza ha effettuato alcuni sequestri di articoli di abbigliamento e accessori contraffatti. Ben trovati a questa edizione di Media News oggi lunedì 30 dicembre. Finanziaria regionale ha ritirato l'articolo sulle case abusive e il governo ha battuto ancora una volta. Si stoppa in Commissione Bilancia all'Arso un articolo della legge finanziaria che rischiava di sanare numerosi edifici abusivi in Sicilia, anche in zone protette e perfino in riva al mare. Tutto grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle a firma di Gian Piero Trizzino che ha portato al ritiro della norma da parte del governo dopo un breve dibattito tra commissari e componenti della Giunta. È un ottimo risultato a difesa del paesaggio siciliano che blocca una possibile speculazione edilizia, ha commentato Trizzino. Nonostante la sua nobile finalità la norma non prevedeva alcuna limitazione per quegli immobili realizzati in zone sulle quali insiste un vincolo paesaggistico o di inedificabilità assoluta, quali terreni a 150 metri dalla costa, zone limitrofe e boschi, siti in interesse comunitari e così via. La norma, cassata dalla finanziaria, prevedeva che le case costruite abusivamente venissero concesse ai comuni per destinarli ad alloggi popolari dopo essere stata acquisita al patrimonio pubblico. La sconfilta del governo sulla proroga dei commissariamenti delle province rivela l'impotenza di un governo che annuncia riforme epocali e poi perde tempo nel farle la protervia di una classe politica regionale arroccata a difendere interessi di basso profilo e la pratica del potere. Per il potere lo afferma Michele Pagliaro, segretario generale della CGL Sicilia, a proposito della bocciatura all'Ars dell'eventamento sulla proroga dei commissariamenti delle province. Che la più importante riforma istituzionale della Sicilia fosse partita male, aggiunge Pagliaro, lo abbiamo rilevato già da tempo. Ora che si è consumata l'ennesima sceneggiata della politica, vorremmo sapere che cosa accadrà se questa sarà l'ennesima occasione per tornare indietro e per non fare. Sono sotto assedio e ora, pretendo un patto di lealtà dopo il voto, deciderò il da farsi. È furioso il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, al termine della commissione bilancio dell'Ars, finita alle 6 di questa mattina. Il bersaglio sono i suoi stessi alleati, a cui lancia un monito. Il governo è sotto assedio, ma soprattutto lo è la Sicilia. Prevalgono coloro che difendono il vecchio, gli interessi, i privilegi, coloro che non vogliono cambiare nulla. Noi non ci fermiamo e dico subito che entro 45 giorni approveremo il disegno di Ege che istituisce i liberi consorsi, sopprime le province e quello sulle città metropolitane. Ed è stato approvato in commissione bilancio e programmazione dell'Ars un emendamento del PDL che dispone il finanziamento di borse di studio ai medici neo laureati specializzanti in medicina e chirurgia. Con l'approvazione di questo emendamento hanno dichiarato i parlamentari del PDL, Falcone, Poiese e Vinciullo, firmatari del DDL. Oltre a riaffermare il principio del diritto allo studio, sarà garantito ai giovani medici specializzanti di mantenersi gli studi di completamento per l'accesso alla professione. Un milione di euro per i danni derivanti dalle ceneri vulcaniche. In commissione bilancio all'Ars è stato approvato un emendamento dell'onorevole Lino Leanza che viene incontro alle esigenze dei comuni della fascia etnea fortemente danneggiati proprio dal cenere vulcanica. Si tratta di un primo segnale di attenzione, dice Leanza, nei confronti di un problema che si configura ormai come strutturale e come tale deve essere affrontato. La Sicilia chiude il 2013 con più recessione, più disoccupati senza riforme, con enti locali in dissesto, con una politica da rissa per il potere. Così Maurizio Bernava, segretario generale regionale della CISL, nel primo di una serie di tweet affidati alla rete che manifestano perplessità per i disastri dal governo della regione definito approssimativo e senza strategia e denunciano il fallimento di una politica chiusa dentro a logiche di gestione clientelare. Danno voce alla preoccupazione del mondo siciliano del lavoro per come, dice Bernava, il 2013 si chiude sui fronti politico, economico e sociale perché le previsioni per l'anno che arriva non sono affatto rose. Si sono svolti questa mattina alla chiesa di Sant'Eugenio a Palermo i funerali di Alessandra Siragusa, ex deputato del Partito Democratico alla Camera e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Palermo. Aveva cominciato l'attività politica da giovane alla scuola di Pier Santi Mattarella, fece parte dell'esecutivo cittadino dal 93 al 2000 con le giunte guidate da Leo Luca Orlando, esperienza durante la quale lanciò il progetto Palermo. Apre le porte, la scuola adotta un monumento che vede i giovani studenti delle scuole del capoluogo fare da Ciceroni nei luoghi di interesse artistico e culturale della città. Già presidente regionale dell'Associazione Emili, Alessandra Siragusa, si era candidata alle elezioni europee nel 2004 raccogliendo 61 mila preferenze ma non risultando eletta, così come alle elezioni regionali del 2006 quando sotto il simbolo della lista di Rita Borsellino le furono riconosciute circa 7 mila preferenze. Nel 2008 viene eletta deputato nazionale delle figlie del Partito Democratico, conclusa la legislatura però non supera le primarie di partito per la ricandidatura, lascia due figli. Cambiamo argomento, è stata pubblicata su internet Panormus, si tratta dell'annuario di statistica del Comune di Palermo elaborato dall'Ufficio Statistica. Una superficie territoriale pari a quasi 160 chilometri quadrati di cui circa un terzo verde urbano, una temperatura media di 19,1 gradi, 650 mila abitanti e quasi 260 mila famiglie, quasi 30 mila stranieri, circa 3.200 matrimoni di cui più di un quarto corrito civile, quasi 95 mila studenti nelle scuole elementari, medi e superiori e quasi 50 mila studenti universitari, 233 sportelli bancari, un reddito medio pro capite di poco superiore ai 10 mila euro, un tasso medio di inflazione del 2,7%. Sono soltanto alcune delle informazioni contenute nell'annuario, numeri che evidenziano la complessità della città di Palermo che, in base ai risultati ufficiali del quindicesimo censimento generale della popolazione, si conferma la quinta città d'Italia per numero di abitanti, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. L'annuario Panormus, suddiviso in 10 capitoli, offre in quasi 200 pagine ricche di grafici e tabelle la più completa raccolta di dati e informazioni statistiche relative alla città e, in alcuni casi, alle 8 circoscrizioni amministrative. Panormus rappresenta un importante strumento di analisi e conoscenza di Palermo, dei suoi abitanti, dell'ambiente, del tessuto economico, dei flussi turistici, dei sistemi di trasporto. Uno strumento a disposizione non soltanto degli amministratori e degli uffici comunali per meglio governare la città, ma anche e soprattutto di chi, ricercatore, studente o semplice cittadino, cerca informazioni attendibili sui principali aspetti che caratterizzano la città di Palermo. L'annuario è disponibile in versione PDF sul sito del Comune. La Guardia di Finanza ha effettuato alcuni sequestri di articoli di abbigliamento e accessori contraffatti durante la settimana di Natale. Le fiamme gialle hanno tolto dal commercio anche diversi cd falsi. Durante la settimana di Natale un vasto piano di controlli a tutela del mercato e dei consumatori e contro la vendita di prodotti contraffatti e insicuri è stato sviluppato nelle principali zone commerciali di Palermo dalla Guardia di Finanza. Oltre 8.000 gli articoli contraffatti sequestrati dai finanzieri in quanto illecitamente posti in commercio, fra cui orologi Rolex, occhiali da sole e Rayman, portafogli Prada, ancora accessori di abbigliamento Gucci, Hermes, Barbary, Armani, Scarpe Hogan e imitazioni di altre prestigiose marche. Sotto sequestro anche etichette che riproducevano noti marchi quali Adidas, Nike, Lugio, pronti per essere applicati sui prodotti da immettere nel mercato illegale. Diversi i sequestri effettuati anche per la vendita di opere musicali e cinematografiche illecitamente riprodotte. Nel complesso sono stati ritirati dal mercato clandestino 2.300 supporti informatici tra DVD contenenti film ancora presenti nei circuiti dei cinematografi e CD di album musicali di vari titoli, nonché vari giochi per console di note marche. 9. Le persone denunciate all'autorità giudiziaria per il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. 4. Quelle denunciate per violazione della legge a protezione dei diritti d'autore. Verbalizzazione in via amministrativa a cinque soggetti, risultati sprovvisti di licenza di commercio e sorpresi a vendere imposti non autorizzati. Nei loro confronti si è proceduto al sequestro di oltre mille articoli di bigiotteria e alla contestazione di sanzioni per violazione alla normativa sul commercio fino a 12.900 euro. Un altro commerciante abusivo è stato invece deferito all'autorità giudiziaria per violazioni alla disciplina igienica nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari per aver posto in vendita frattaglie di origine animale in pubblica via non curante delle polveri e dello smog provocato dagli scarichi delle automobili. L'amministrazione comunale di Altavilla Milici ha presentato in accordo con il santuario diocesano il progetto per il nuovo carro trionfale. L'argomento verrà approfondito nella rubrica settimanale, i comuni informano. Intanto ascoltiamo padre Liborio Scordato e il sindaco Nino Parisi. Il carro simbolo della festa di Altavilla Milici è diventato anziano e quindi dopo aver percorso per tanti decenni, forse per secoli, non so, le strade del nostro paese gli spetta il meritato riposo non è più in grado di percorrere le strade del nostro paese. Pertanto l'amministrazione civica attenta alle problematiche della festa della Madonna della Milicia ha pensato di intervenire con i suoi modi, con le sue possibilità di intervenire per rifare questo carro, ma non rifare questo perché sarebbe come un abito rattoppato tante volte e finisce che poi non si può più usare. Si sta facendo appunto un carro ex novo mantenendo esattamente lo stile e la misura di quello vecchio. Diciamo che è un progetto per un nuovo carro tiromofale che riprende come ha detto giusto poco, anzi il parroco, quello che è lo stile del carro vecchio e anche le misure. Quel carro naturalmente andrà in pensione, parlavamo poco fa col parco proprio di questo, di trovare un sito ideale dove poter fare un museo e esporlo, visto che di anni ne ha parecchi sulla groppa. L'amministrazione ha potuto notare che non c'era un elaborato progettuale del carro, quindi nella malaugurata ipotesi che questo carro andasse disperso per un motivo qualsiasi, sarebbe stato davvero difficile ricostruirlo alla stessa maniera. Per questo abbiamo impegnato, ringraziando a Dio nell'amministrazione ci sono dei tecnici come l'architetto Lobosco, il geometra Petrangosta che è quello che ha redatto il progetto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista culturale, storico, l'architetto Lobosco si è occupato, i calcoli e la meccanica sono state affidate all'ufficio tecnico, motivo per cui non è costato esattamente nulla ai nostri contribuenti e nello stesso tempo a futura memoria avremo anche un elaborato progettuale, mediante il quale non si sanno mai le cose della vita, avremo sempre la possibilità di poterlo rifare. Mercoledì 1 gennaio a partire dalle 15.30 nell'ambito dei festeggiamenti natalizi organizzati dal comune di Altavilla Milice, la banda musicale di Trabbia e dei Zampognari allieterà le vie cittadine alle 16.30 fino alle ore 20.30 in prossimità della chiesa di San Giuseppe sarà rappresentato il presepe vivente a cura del comitato San Giuseppe con degustazione di prodotti tipici locali. Giovedì 2 gennaio i giochi di Natale per tutti i bambini presso la scuola media Monsignor Gagliano a cura dell'associazione Prometheus. Questa sera alle 21.15 alla chiesa Immacolata Concezione al Capo in via Portacarini a Palermo concerto Richiami Mediterranei, il concerto inserito nella rassegna Musica Maestri, un libro per un concerto promosso dall'associazione Culturale 90-100 finanziato dal comune di Palermo assessorato alla cultura all'interno delle manifestazioni natalizie 2013, ingresso libero. A Trabbia si è tenuto il settimo model sharing fotoamatori e modelle una mattina all'insegna dell'arte fotografica. Vediamo. Questo gruppo è diventato veramente in pochissimo tempo un punto di riferimento per tutti i fotoamatori la collaborazione di tutti è stata veramente eccezionale e siamo arrivati infine a questo punto, questo punto che oggi ha organizzato questo model sharing appunto per scambiarci gli auguri, gli auguri di fine anno e nello stesso tempo ne approfittiamo anche per fare delle foto con queste splendide ragazze che anche oggi ci stanno regalando questa giornata che per noi, come ripeto sempre, è una festa fotografica. Noi nel gruppo che abbiamo fatto su Facebook mettiamo tutte le fotografie che vogliamo e nessuno le critica in maniera negativa, tutti ci critica in maniera positiva anche che facciamo le belle fotografie anche a parere nostro, poi non lo so gli altri cosa possono pensare. Anche per questo evento Vidaloga è presente con le sue ragazze dell'agenzia, tra l'altro due di loro che faranno il model sharing hanno partecipato al calendario e sono Alice Capitano e Carla Bonanno, è sempre un piacere collaborare con Carmelo Labarbera e con tutti i fotoamatori di questo gruppo su Facebook. Questo è il calendario, spero che vi piaccia, spero che avrete modo anche di conoscerlo. Siamo che questa è la prima volta che organizziamo in questa location questa manifestazione, pensiamo di poterle fare anche qualcun'altra, diciamo anche il prossimo anno, di cercare di organizzare qualcosa per promuovere la nostra location in tutta la provincia e quindi allargare un po' i nostri orizzonti a più paesi che magari essendo un po' lontani non riescono comunque a conoscerci perché magari non sono di queste parti. E con questa notizia è davvero tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci. Grazie.